Eh, eh già, non era finito, non vi aspettavate un secondo episodio, eh? Esatto, non dovevo morire nello scorso episodio alla fine, ma continuava, eh già. Allora, eravamo qua arrivati allo specchio, che è inquietantissimo, lasciamo stare. Quanto fa cagare ogni volta questa parte? Basta, vattene da casa mia. Allora, praticamente, dovevo andare a prendere la chiave, questo passaggio l'ho già fatto. Che bello che è il lavandino, mi ci laverei la faccia ogni giorno. Vabbè, a parte questo. Ciao anche a te. Dovevamo andare a prendere la chiave, esatto, proprio questa. Dovevamo andare qua e dovrebbe uscire proprio adesso un tipo qua. Non mi fare prendere uno spavento. Cosa devo fare? Ma ogni volta che clicco questo specchio deve cambiare casa mia. Posso avere la stessa casa, per favore? Magari non questa. Dovrebbe uscire un mostro da lì, ma non esce. Dammi la mia chiave. Cos'era stato? Cos'è questo rumore? Oh! Oh! Oh, vai via! Oh, mio Dio! Oh! Non lo farei mai più! Oh, mio Dio! Per favore, cerchiamo di non cagarci ogni volta in mano. Ah, ho capito a cosa serve questo. Per il baule! Ah, sì, comunque, se non avete guardato il primo episodio non ci capirete un cavolo. Quindi vi consiglio di andare a guardare. Ma che sono questi rumori ogni volta? Basta! C'è l'ombra della chiave e non la mia ombra. Bellissimo. Tra l'altro la chiave è più grande di me. Però, dettagli, mi sa che dobbiamo riandare nel mondo delle tenebre. Lo chiamerò così. Io mi cago in mano ad andar lì. E vai, basta dondolare te. Io ci vado. Ci vado, ma non voglio. Perché sono ritornato indietro? Cos'ha questo posto che non va? Oddio, c'è il baule. Però, la chiave è sbagliata. Oh, oh, oh. Oh cacchio. Oh cacchio, l'ho sentito. Oddio! Oddio, era proprio dietro di me. Io giuro che lo spacco questo orologio. Toh! Ti ho preso una chiave. Mi sa che la vuole. Lasciamola qui. Tanto non ci serve a niente. Dobbiamo rientrare nel mondo delle tenebre. E prendere di nuovo la chiave. Probabilmente così. E abbiamo del tempo prima che arrivi quel brutto uomo. Eccolo. Quanto sei bello. Amore. Non fare così. Ah, c'è la chiave lì. Oh. Cosa? What the fuck? Me l'ha trasferita da qualche paio. Non lo so dove. Non ho capito niente. Qualcuno mi aiuti? Perché mi porta alla pagina Facebook? Io non ho capito. Ci sarà un motivo? Non capisco un cavolo. Così? Cosa? Ma questo era vuoto prima. What the fuck era vuoto? Ah. Allora, mi sono aggiornato un po'. Devo scaricare questa cosa. Probabilmente sarà un virus. E dobbiamo metterlo in input. Ah, io ho letto così. Nella pagina Facebook. Proviamo. Per favore, dimmi che funziona. Non ho tutto il giorno. Vediamo. Adesso dovrei trovare, là dove ho buttato la chiave. La chiave 4. No? Che cos... Cosa è successo al mio computer? Chi è che mi stalla i virus? Lo sapevo. Lo sapevo che funzionava. 4? Dimmi che la qua... Sì, è la 4. Grazie. Sei... Ciao. E ora posso aprire il baule. Però io ho paura di andare lì. Non voglio riandare lì. Ma mi tocca. Mi tocca farlo. Ciao. Ciao anche a te. Se non ricordo male, è qui. Esatto. La 3. Cosa? No, a me serviva la 3 e non la qua. Dobbiamo scaricare la 3. Madonna, ma sto gioco è troppo figo. Dov'è la 3? Eccola. Madonna, si è incasinato sto gioco. Cioè, devi scaricare la roba dalla pagina Facebook per andare avanti col gioco. Cioè, è un casino. Voi non ci capirete probabilmente niente. Però tranquilli, capirò io per voi. In verità non ci sto capendo nemmeno io tanto. Però, vabbè, dettagli. Dammi questa chiave. Allora, riandiamo di nuovo qua. Non è vero, non è qua. Dovrebbe esserci la 3. Ormai ho tutte le chiavi, cioè. Oh, la 3. Oh, posso aprire il baule? Che casino, mio Dio, per una chiave. Apri sto cavolo di baule. Cos'è sto? Un piede? Devo attaccarlo. Il piede che mancava. Un piede. Allora, sono scappato perché c'era il tipo là che mi seguiva. Però, cosa? Tieni, è il tuo. Eh già, sì. Ma si è allungato. Ma perché si è allungato? Tieni, non lo voglio più io. Tieni, per favore, mettitelo. Fai qualcosa con questo piede. Oh, cacchio. Oh, io ti... Ah, devo cliccare sul suo culo, va bene. Ok, siamo in camera. Oddio, mi sto cagando in mano. Probabilmente questi video saranno lunghi, abbastanza lunghi. Perché è difficile. Se rivado qui, io mi aspetto un jumpscare. Oh, shit. Non c'è più nessuno. No. Ma no. Un'altra donna. Ma perché proprio a me? Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate mi piace, commentate ed iscrivetevi. Noi c'è la prossima giorno con un prossimo video. Bye ragazzi.